Ancora parliamo di Sant'Agata perché è stata presentata questa mattina la mostra fotografica sulla patrona di Catania realizzata dalla Fondazione Fiumara d'Arte che arricchirà il Museo Internazionale della Fotografia di Librino, il servizio di Claudio Grassi. Hanno immortalato e ritratto valorizzandoli i momenti più suggestivi della festa di Sant'Agata e il lavoro incessante di oltre 700 volontari del coordinamento comunale di volontariato della protezione civile. Sono i dieci fotografi della Fondazione Fiumara d'Arte patrocinata da Antonio Presti che hanno allestito una mostra dei preziosi scatti nella sede di Piazza Stesicoro dove saranno anche proiettate le immagini più significative. Un modo per testimoniare il valido contributo dei volontari, molti dei quali giovani, per offrire valori positivi e di solidarietà. Un momento di impegno da una parte ma anche di testimonianza. E' importante in questo momento nella nostra società in crisi, in quei valori etici e morali, dimostrare come ancora i ragazzi mettono a disposizione il proprio tempo non a servizio del denaro, a servizio del cuore, a servizio di quella società civile. E oggi siamo felicissimi di presentare ufficialmente questo lavoro e di rispettare tutta la protezione civile e dico a tutti i catanesi non dimenticate mai che dietro questa grande organizzazione ci sono 700 volontari che con grande dedizione rendono sicuro la festa. L'allestimento che è possibile visitare sino al 5 febbraio dalle 17.30 alle 23 testimonia l'impegno, la forza e l'energia dei volontari che si spendono per il prossimo nelle festività e gattine. La mostra farà parte del Museo Internazionale della Fotografia che sarà allestito a Librino. Una bella esperienza perché Fiumara d'Arte ha fatto un grandissimo lavoro l'anno scorso e lo ripeterà sicuramente quest'anno con l'impiego di dieci fotografi che hanno ripreso tutte le attività dei volontari nel corso della festa in ogni particolare quindi hanno potuto e oggi si può dimostrare con le foto qual è veramente l'attività e il sacrificio che fanno i volontari nella festa di Sant'Agata.